Una collezione nata dall'amicizia tra due donne che debutta proprio in occasione dell'8 marzo. È la linea di accessori 1212 disegnata da un'imprenditrice di Prato, Sara Fioravanti, e dalla sua socia in affari, nonché cara amica Fiona May. C'è anche la firma della campionessa di Salto in Lungo su questi accessori pensati per una donna energica e realizzati al 100% da aziende toscane. Anche Fiona infatti abita da qualche anno vicino Firenze e insieme a Sara ha voluto dare vita a una linea di moda che utilizzasse le maestranze e la competenza del distretto pratese. Com'è nata questa collaborazione? Via amicizia. Io, Fiona, lei e Sara abbiamo gli stessi dati di nascita fino allo stesso anno, differenza da due ore, io da Londra e lei qui a Firenze. E via amicizia come il nostro amore, famiglia, futuro, cosa abbiamo, cosa non vogliamo fare. E' stata la sua idea. Io ho detto, moh, io non lo so. Ma invece lei mi ha spinto, mi è uscito fuori questo livello di creativa, un po' una donna che è piena di vita, che ha tante cose da fare, però allo stesso tempo con tante amicizie, tanto umore. Per cosa sta 12-12? 12-12 sta proprio per la data di nascita, quindi giorno e mese, perché ci è sembrato abbastanza strano trovarsi due persone che sono diventate prime amiche e poi hanno scoperto appunto questi numeri uguali nel giorno, nel mese e anche nell'anno. Questa è una collezione tutta made in Italy, made in Toscana, direi quasi made in Prato e qualcosina a Firenze, è proprio tutto qua, proprio per crederci anche dove viviamo, nonostante magari io sono nata a Firenze, lei è nata a Londra, ma è uguale, cioè viviamo qua e vorremmo proprio che questa città riprendesse la vita che aveva. Molta attenzione ai materiali. Anelli e ciondolo sono intagliati in ebano venge, un legno proveniente dalle zone tropicali africane, mentre i gioielli sono arricchiti da una patinatura vintage realizzata a mano. Anche il packaging è ecologico, con un'etichetta che non si butta ma diventa un segnalibro, mentre il premio originalità va alla t-shirt, tutte le strade portano all'amore. Se dovessi scegliere un accessorio, una delle cose che avete disegnato che ti piacciono di più, quale sceglieresti? Per me sicuramente è anello. Gli anelli che abbiamo fatto in diversi colori, sì, perché mi piace portare gli anelli, perché è molto facile, ti metti, si toglie, poi metti proprio con momenti eleganti, anche nel momento proprio casual. Anche le sciarpe, adesso ho queste cose come le sciarpe, perché mi piace il collo alto. Se non puoi il collo alto, puoi la sciarpa.